Ciao a tutti, ciao a tutte Madonna mia, bianchissima, vabbè, lasciamo perdere Allora, finalmente so il giorno d'uscita dell'ultimo episodio della serie di Skyrim Lo farò uscire martedì 16 alle ore 21 Ci siete a quell'ora? Ora, per me sarà, diciamo, ideale farlo uscire a quell'ora perché sono più libero E così potrò leggere i vostri messaggi quando arriveranno, ok? Ok, inoltre l'intenzione di fare è così Alle ore 21 uscirà un preludio musicale Prende una premiere Youtube offre questa possibilità È un video normale, pre-registrato, che non si può mandare in avanti Scorrerà in avanti, cioè tranquillamente Ma con la chat attiva Quando quel video terminerà, uscirà l'episodio vero e proprio Ora, la chat attiva è interessante È un modo per stare un pochettino insieme, in compagnia Un quarto d'ora Davvero una cosa breve Però ci tenevo perché Innanzitutto le canzoni sono coerenti Anche le scritte che appariranno sono coerentissime Ed è coerente anche il fatto che noi stiamo Poi tutti quanti insieme Tutti connessi Ci tengo molto Ringrazio Joker perché io non sapevo niente della premiere Lui mi aveva consigliato di far uscire il video vero e proprio così Però è bellissima l'idea, sicuramente Però uno o guarda la chat o guarda il video Non può stare attento a entrambe le cose E quindi ho preferito così E tra l'altro ringrazio anche Lily perché le ha dato vari suggerimenti Innanzitutto io volevo farlo uscire di domenica L'episodio Soltanto che mi ha ricordato che uscirà il trono di spade Quindi ho preferito evitare E niente, quindi ci vediamo martedì sera Poi chi non ci riuscirà lo ricoprerà anche i giorni seguenti Il preludio ci rimarrà sempre nel canale caricato Tranquillamente Ah, come ultima cosa Io ho due paure Due paure grossissime La prima paura È che io non ho fatto mai un video premiere Quindi magari potrei sbagliare qualcosa Ma vabbè, non fa niente Alla fine si tratta di un... Per quanto ci tenga Però non è il video finale Se dovessi cadere qualcosa Se non dovessi riuscire a caricarlo Poco male La seconda paura riguarda proprio l'episodio finale Perché? Una volta che sarò online Una volta che lo metterò proprio pubblico YouTube rivelerà i copyright Cioè le violazioni di copyright Io ho messo un sacco di musiche Che violano i diritti di copyright Come ho fatto sempre nelle intro e nelle auto Nulla di nuovo Io non monetizzerò come ho sempre fatto In questi video qua Però sapete perché ho paura C'è questo nuovo articolo che è uscito Questa nuova legge Quindi ho sempre il terrore che mi blocchino tutto Sarebbe una tragedia Però metto già le mani avanti Se non dovesse uscire il video dopo il preludio Dopo il video musicale È perché YouTube ha fatto qualcosa di brutto Ok? Io starò piangendo Sarebbe un colpo tremendo Non so forse... Non voglio neanche pensarlo Lasciamo perdere Comunque se dovesse accadere qualcosa Se non doveste vedere il video online È perché davvero è successo qualcosa di bruttino Con i copyright Vabbè Detto questo io vi saluto Vi ringrazio Ci vediamo martedì Ci iscriviamo martedì Chi sarà in chat Vi ringrazio anche per i consensi Che mi avete dato per i vostri nickname L'ho apprezzato molto Ma apprezzo anche tutti gli altri Anche tutti gli iscritti silenziosi Grazie e cuore a tutti Ciao 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 Ciao